Buongiorno, Piero Scarici. Una donna. Che caldo. Molto piacere. Io sono Piero. Ma che piacere rivederti. Come stai? Buonasera. Questa è la tua opportunità. Oh, ma vai piano, porca vaca. Ma porca vaca. Cazzo. Cazzo. Dove cazzo siamo? Ma che cazzo significa? Come cazzo nos aiuta? Donde cazzo è stata da me? Ma sto, cazzo. Finchia. Ancora, che si può fare? Allora dimmi. Tu sai mentre? Un distributore nel Messico. Piuttosto tutta l'America Latina. Distrugge il tuo telefono. Ma che dici? Non ha funzionato. In questo caso? In questo caso? Salute. Sì, grazie. Grazie. Grazie per l'invito. Con l'Andrangheta abbiamo tutta l'Europa. Allora è tutto risolto. Un milione di euro. Bravo, ragazzo. Aspettate, aspettate, dai. Perfettamente, dai. Non c'è nessun problema. Non ti preoccupare. Non ci sarà ningún problema. Hai capito? Lasciatemi in pace, lasciatemi in... La bella sorella. La bella squadra. Dove lo produce? Un cambiamento. No, del cottero in militare. Una dolce vendetta. Vediamoci. Dai. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo! Questa informazione si deve processare. Da modo nostro. Capisci? Hai capito? Pronto? Ma guarda. Come scusi? Un'altra complicazione. Ma siete sicuri? Ma che figata? Che figata? Allora dimmi tu, dimmi tu. Che cosa vuoi che io faccia? Che ne so. Che gentile. Però no, grazie. Va bene. Benissimo. Questo è una perdita di tempo. Ci vediamo dopo.